Solo due parole, il prossimo brano, Lama Dominia, è il dialetto trentino. Due parole vi spiego. Parla di un ragazzino, che poi è l'autore del brano, di quando era bambino e con la mamma scendeva dalla malca, si fermavano a un capitello della Madomina, la mamma si fermava un attimo, brigava pian piano e poi diceva al bimbo, andiamo dai. E andavano in un paese a vendere formaggio e prodotti tipici. Lui in età più avanzata ricorda questi momenti e gli ha scritto questo brano. e gli ha scritto questo brano. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.